Ciao bellissima, come stai? Tutto bene? Mi fa molto, molto, molto piacere sentirlo e soprattutto mi fa molto, molto, molto piacere rivederti. Era un po' di tempo che non ci vedevamo più, vero? Esatto, sì, per ne motivi. Purtroppo non siamo riusciti ad incontrarci, però hai visto che alla fine ci siamo riusciti? Esatto, esattamente. Allora, fuori c'è un tempo veramente da lupi, proprio autunnale. C'è freddo, piove, stanno ormai cadendo tutte le foglie dagli alberi e hanno tutte un meraviglioso color arancione, rosso e giallo. E cosa da non sottovalutare? Adesso, essendo cambiata l'ora, viene buio prima. Esatto, infatti oggi pomeriggio guardo fuori dalla finestra e c'era già buio ed erano praticamente le 4 e mezza del pomeriggio. Ma noi sappiamo che in realtà è come se fossero le 5 e mezza. Però cosa ci vuoi? Queste sono le stagioni. Il tempo cambia, le stagioni cambiano, i mesi passano, quindi insomma noi dobbiamo imparare semplicemente a starci dietro. Ecco, esatto, esatto, dobbiamo provare a starci dietro e soprattutto dobbiamo provare a, insomma, non farci trascinare da questo brutto tempo, da questo buio, ecco. Dobbiamo sempre cercare di essere un po' una luce. Quindi, oggi, appunto, anche se c'è brutto, ci vogliamo coccolare. Esatto, perfetto. E come ci vogliamo coccolare? Oggi lo faremo con un meraviglioso massaggio ai tuoi stupendi capelli. Sì, esattamente, non c'è niente di meglio per rilassarsi. Hai visto che abbiamo anche questo sfondo molto, molto, molto caldo, con questo legno e queste luci? Anche perché, soprattutto, gli occhi hanno bisogno di potersi rilassare, di poter vedere qualche luce più leggera rispetto a quelle dei computer, dei grandi negozi, supermercati, quindi un bello sfondo tenue, leggero. Ti piace? Benissimo. Allora. Inizio molto semplicemente con l'utilizzo delle sole mani. Poi, andando avanti, ho altri prodotti. Poi, andando avanti, ho altri prodotti. Non ti preoccupare se ti spettini, ho portato una spazzola. Poi, andando avanti. Mani. Continuando. Poi, andando avanti. Chiudì gli occhi se vuoi? Chiudì gli occhi Chiudì gli occhi Le capelli potremmo definirlo un massaggio alla testa Chiudì gli occhi 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 Come ti senti? Tutto bene? Perfetto. La parte dietro è fondamentale. Ok. Vado un attimo a pettinare i capelli adesso. Ok. 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 Perfetto. Ok. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.